Non tarda ad arrivare la risposta del presidente del Parco del Matese, Girfatti, al direttore della Coldiretti Campania, Salvatore Loffreda, che accusava senza mezzi termini l'ente montano di essersi distratto insieme al GAL in occasione di un evento importante come la fiera di San Martino a Piedimonte Matese, che tanto successo ha ottenuto. A spiegarci il motivo dell'assenza è lo stesso presidente dell'ente parco. È bene chiarire quale è stato e come sono andati i fatti. Il comune di Piedimonte Matese insieme a Coldiretti e ad altri partner ha organizzato un'iniziativa importantissima che ha avuto fortunatamente un grande successo e questo fa bene a tutto il territorio. Il parco non era nel partenariato dell'organizzazione, quindi sono rimasto un po' stupito su queste, tra virgolette, divergenze e diversità di opinioni da parte dei referenti di Coldiretti, anche perché chi mi conosce e chi sa che in questi cinque mesi abbiamo messo in campo un metodo collaborativo, sinergico con tutte le forze del territorio e quindi obiettivamente, tornando al discorso della manifestazione, noi non eravamo inseriti nel partenariato. Venerdì abbiamo ricevuto un invito e con il sindaco con il quale c'è un rapporto splendido, così come tutti gli altri amministratori dei territori del parco, c'è stata semplicemente una telefonata nella quale purtroppo per concomitanti impegni ai quali ero stato invitato 15 giorni prima, Morcone, in questo caso parlo di un evento organizzato a Morcone, non mi è stato possibile intervenire il sabato. Domenica ero su un altro evento e quindi non sono potuto venire, ma in questo caso come autorità, come rappresentante di un'istituzione a dare un saluto e a partecipare all'iniziativa. Ma non c'è stato il coinvolgimento del parco nell'assetto organizzativo dell'iniziativa. Questo per me non è un problema, anche perché se si commettono degli errori o vengono organizzate delle iniziative con il coinvolgimento di un ente piuttosto che di un altro, il problema non si pone. Sto cercando da cinque mesi, faccio il presidente del parco dal 20 giugno, sto cercando di attuare un altro tipo di metodo, cioè il coinvolgimento sinergico di tutte le forze che devono avere un obiettivo importante, cioè quello del rilancio di tutto il territorio matesino. Questo è l'obiettivo, tant'è vero che l'approvazione dello statuto, io sottolineo l'approvazione dello statuto, perché dopo l'approvazione dello statuto il presidente del parco non è stato con le mani in mano, oltre a partecipare alle tante iniziative e a promuovere tante iniziative sul territorio, ha pubblicato e ha fatto pubblicare una manifestazione di interesse per la composizione dell'Aggiunta. All'interno dell'Aggiunta ci saranno due referenti, uno dovrà essere individuato dalle associazioni agricole e un altro dalle associazioni ambientali, quindi noi con le associazioni di categoria, a differenza del passato, abbiamo un dialogo aperto, però lo dico per evitare qualsiasi tipo di polemica, il metodo deve cambiare, noi siamo nel 2018, siamo alle porte con una trasformazione di un ente, l'ente parco non ci sarà più, ci sarà un parco nazionale, addirittura, e questo lo dico perché mi fa piacere che il direttore di Coldiretti nell'intervista rilasciata abbia fatto un passaggio sulle norme di salvaguardia, il sottoscritto a differenza di tutti gli altri predecessori, per quella che è la mia conoscenza nel merito, sulle norme di salvaguardia, si è fatto promotore in una riunione al Ministero dell'Ambiente perché siamo consapevoli di quali sono le restrizioni delle norme di salvaguardia, quindi stiamo intervenendo e stiamo cercando in maniera fattiva di risolvere laddove è possibile problemi atavici che non appartengono a questa presidenza, ma se oggi il metodo deve essere tu non c'eri e quindi hai sbagliato a non partecipare, tu sei assente, allora io faccio un passo indietro, sono risposto anche a dimettermi, guardate, voglio fare un'espressione, voglio utilizzare anche una forma forte di comunicazione perché così non si cresce, o c'è la collaborazione, o si lavora gomito a gomito, diversamente stiamocene a casa. Il parco regionale del Matese a parco nazionale potrà portare a risultati positivi o invece come qualcuno afferma potrebbero sorgere dei problemi invece? Io penso che ci sia soltanto un arricchimento del territorio, l'ipotesi di studio che c'è stata sottoposta da Ispra nell'ultima riunione al Ministero immagino un parco veramente molto grande, un parco nazionale, parliamo probabilmente se dovesse essere poi confermata nella futura perimetrazione di un parco che vada a comprendere oltre 60 comuni tra Campania e Molise, è chiaro che questo porterebbe al territorio dei benefici incredibili. Ultima domanda, ultima risposta però brevissima, pace fatta con la col diretti regionale? Ma io devo dire la verità, con il direttore Offredo è un rapporto sereno, anzi è di stima e ci siamo sentiti subito dopo la sua intervista, devo dire la verità, ma non per chiarire ma giusto per fare il punto della situazione, a breve ci incontreremo proprio perché come dicevo poc'anzi l'attenzione che sto dando soprattutto a quelle che sono le norme di salvaguardia, a quelle che sono le restrizioni per gli imprenditori agricoli e della zootecnica locale, devono essere sicuramente al centro di un'agenda comune per evitare disastri e cercare in qualche modo di trovare delle soluzioni.